Ciao a tutti, io sono Stefano e benvenuti in questa nuova serie del canale. Allora, in questa serie, come forse avete già visto dal titolo, vi parlerò della mia esperienza universitaria con il corso di studi di scienze sociologiche, che da ora in avanti chiamerò sociologia per fare prima, perché diciamoci la verità, ogni volta che uno mi chiede cosa vai a fare all'università, e io dovrei dire scienze sociologiche, mi sembra troppo lungo, quindi dico sociologia che si fa prima, perché scienza sociologica uno potrebbe dire ma in che senso è sociologia o qualcos'altro, e in effetti è un insieme più grande da come ho capito. Comunque sia, ho pensato di portare questo contenuto perché su YouTube Italia non ho trovato persone che abbiano parlato della loro esperienza universitaria nell'ambito della sociologia, altri argomenti non li ho cercati, in maniera dettagliata e soprattutto che abbiano parlato della loro esperienza vissuta in prima persona. Ho visto solo che ci sono alcuni video delle stesse università che presentano il loro corso di studi, però credo che chiaramente quelle lì non siano assolutamente imparziali, o comunque non credo che in tali video queste università presentino il corso in maniera, dal punto di vista di uno studente, ecco non credo che lo facciano, presenteranno gli esami e quello che è, o comunque useranno le statistiche per un po' convincere le persone a scegliere tale corso, ma non credo che sia il tipo di informazione più informativa, per dire così, che uno studente che vuole scegliere qualcosa potrebbe avere, ok? Credo che il punto di vista di uno studente che vive in prima persona sia più informativo. Quindi dopo questa piccola introduzione iniziamo veramente con l'argomento e spiegherò come, anzi, da dove sono partito, come ho scelto sociologia, e poi le mie aspirazioni verso il futuro, e infine darò una breve scorsa agli esami che in teoria farò nel primo anno e vi dirò i miei presentimenti per ciò. Allora, inizialmente io, in realtà, mi ero interessato particolarmente di psicologia, e ho letto anche parecchi libri a riguardo, precisamente di psicoterapia, per chi volesse sapere precisamente, di Alexander Lowen, o Lowen, non so come si dica, immagino Lowen, con il dire che ho letto parecchi libri non intendo dire che sono una persona competente, che ho letto tutto e ho capito tutto, anzi, ho letto tutto, ma che ho capito tutto o no dell'argomento, però è giusto anche che io dica precisamente cosa ho letto, perché magari qualcun altro l'ha fatto, eccetera, eccetera. Comunque, guardando verso l'università, non ho mai pensato di fare psicologia in realtà, perché, tralasciando quell'interesse un po' verso la psicoterapia, che, tra l'altro, è andato un po' scemando, perché inizialmente, ok, che so, leggevo un po', Alexander Lowen si occupa di bioenergetica, circa, generalmente parlando, ho letto un po', ho visto un po' le sue teorie e sono arrivato a sapere alcune cose, però adesso non mi interessa più, cioè non credo neanche che sia una mia vocazione, diciamo, imparare a curare persone con quei tipi di disturbi. Quindi il mio interesse è andato un po' scemando, in ogni caso ce l'avevo all'inizio, perché, appunto, tralasciando un po' questo interesse per la psicoterapia, quello che in realtà mi interessava, e anche nel caso dei libri che ho letto è così, era l'aspetto di, tipo, ricerca della psicologia, cioè mi interessavano i ragionamenti che venivano fatti per arrivare a determinate conclusioni. E mi interessava sapere i ragionamenti, così da acquisire anch'io il più possibile una capacità di pensiero critico e deduttivo. Perché faccio questo esempio con i libri, perché li ho letti in prima persona e so di quello che sto parlando. Se io leggo un libro e mi dicono che una persona presenta queste determinate caratteristiche e poi l'autore del libro mi fa tutta una serie di ragionamenti per arrivare a definire, scoprire il motivo di queste manifestazioni, una persona può essere interessata a sapere proprio dall'inizio il tipo di motivo, le cause, però una persona può essere interessata anche al ragionamento in sé, cioè al ragionamento proprio come, come ragionamento, non ragionamento in chiave psicologica. Oppure può, una persona può essere interessata a entrambi. Ok? E quello che a me interessava era sia un po' in chiave psicologica, ma soprattutto al ragionamento, no? Perché mi piace pensare, come ho detto nell'introduction a Think and Analyze Podcast, e comunque sia, credo che anche sapere quelle cose sia utile anche fuori dall'ambito strettamente psicologico e psichiatrico, ma possa anche dare degli spunti per capire altre azioni, diciamo nell'ambiente normale, quotidiano di tutti i giorni. Quindi questo. Inoltre, sapevo bene che quando si fa psicologia all'università, anche guardando gli esami, gli argomenti sono molto più vasti e alcuni proprio non mi interessavano. Cioè, ad esempio, la psicologia del bambino, che se non erro si fa, non mi interessa a me, onestamente. E quindi questi, quindi, ricapitolando brevemente, non ho mai pensato di fare psicologia all'università, intanto perché, tralasciando quell'interesse verso psicoterapia, quello che mi interessava strettamente era l'aspetto di tipo ricerca. E quindi gli argomenti in sé non è che mi interessassero chissà cosa. E inoltre sapevo che ci sono altri esami in cui si fanno altre cose, o meglio, si fa sempre cose di psicologia, però altri argomenti rispetto a quelli che avevo letto. Dunque, questi ragionamenti li facevo mano a mano, mi, tipo, distaccavo da psicologia, e mi avvicinavo a sociologia, ok? Ora, credo che sociologia includa molti e differenti ambiti rispetto a psicologia. Cioè, sociologia penso sia più vasta, ok? Mentre psicologia è un po' più stretta, poiché al loro interno ci siano sempre tanti argomenti, è innegabile. Però sociologia parte da una cosa più vasta, ok? E per questo motivo in realtà non so ancora bene quale sia l'ambito, il mio ambito preferito in sociologia. Cioè, perché uno può dire mi piace sociologia, sociologia comprende tantissime cose, cosa ti piace in particolare. Quello non lo so ancora perfettamente. Però ho cercato, e ho cercato anche di leggere libri a riguardo, tutti mi interessano, sì, ma appunto ancora nulla, ho fatto letteralmente click da farmi capire, ok, questo argomento è proprio la tua, la tua, come si può dire, passione, diciamo così. Tengo comunque a dire che in tutto ciò, credo a metà tra sociologia e psicologia, sta il mio interesse verso criminologia. Anche se anche lì so ancora ben poco, e qui so proprio poco perché non ho... Anche criminologia è una cosa abbastanza ampia, perché quando uno dice ti piace criminologia, cosa intende? Intende, gli piace l'aspetto di studiare, che è più l'aspetto sociologico, diciamo. Studiare la società per avere, scoprire statistiche e dati su cose in media le persone fanno. Quindi se ad esempio arrivano da un determinato background, fanno questo tipo di crimine, eccetera, eccetera. O dici che ti interessa criminologia perché ti interessa in realtà... E questa visione potrebbe essere influenzata da vedere serie televisive tipo Criminal Minds. Ti interessa in realtà studiare la mente del criminale per beccarlo e arrestarlo. Quindi anche lì è una cosa un po' tricky di cui parlare. Comunque, anche se so poco, parlo di tutto ciò e spiego il mio punto di vista perché credo sia sempre bene sapere da dove si parte. Quindi io per ora vi ho detto che avevo un background, tipo background, di psicologia. Poi comunque ho deciso, mi sono accorto di preferire di più sociologia e nel frattempo anche mi interessa criminologia. Parlo di ciò perché se parlassi tra, ad esempio, due o tre anni, anzi facciamo tre anni, che ho finito di laurearmi in sociologia e dico, ok, adesso faccio criminologia, una persona potrebbe dire, ah, si vede che già prima di fare sociologia ha scoperto che la sua strada era criminologia, quindi ha fatto sociologia e dopo criminologia. In realtà io adesso non sono sicuro. Potrebbe essere che tra tre anni faccio criminologia, ma potrebbe anche essere di no. Però se voi vedete solo, se io vi parlo solo nel momento in cui sto scegliendo una determinata cosa, pensate che tutto ciò che ho fatto prima fosse in chiave di quella cosa. In realtà non credo sia così, o meglio, nel mio caso non è così e spesso per le altre persone non credo sia. In ogni caso, finora ho parlato molto razionalmente riguardo alle motivazioni della mia scelta universitaria e quindi ho detto, sì, appunto, psicologia, sociologia, criminologia, eccetera, eccetera, e tutto molto razionalmente. Ora però tengo a parlare più di cosa mi affascina, tipo a livello emotivo, ok, di sociologia, o meglio, cosa succede, tra virgolette, emotivamente dentro di me che mi ha fatto poi scegliere sociologia. Come ho detto anche nell'introduction al Think and Analyze Podcast, a me piace pensare, ok, e mi piace pensare in generale, quindi l'ho detto anche prima per quanto riguarda l'ambito di ragionamento della psicologia. Però per essere preciso io spesso penso ai motivi per i quali le persone agiscono come agiscono, pongo molta attenzione ad osservare come sono fatte le compagnie, da chi sono composte, insomma in generale, in generale, pongo parecchia attenzione e osservo il maggior numero possibile di fenomeni sociali che mi circondano. E questo ritengo di averlo sempre fatto, in chiave più o meno conscia, perché ovviamente quando sei più piccolo sei un po' meno, diciamo, capace di pensare a livello astratto, però adesso lo faccio totalmente in maniera conscia. E at the end of the day, per usare un'espressione inglese, è questo che in realtà mi ha fatto scegliere sociologia. Cioè io sono sempre stato un po' così e tra l'altro anche parlando con i miei amici ad esempio si parlava di una compagnia e mi dicevano sai conosci questa persona e magari si aspettavano dicessi di no e invece io dicevo sì sì la conosco o meglio la conosco di vista. E loro dicevano ma come fai a conoscere la scusa? E io gli ho detto eh l'ho visto un giorno, che so un po' di mesi fa, stare con quest'altra persona e ho capito che stavano insieme. Quindi, e magari questa mia osservazione gli altri mi facevano boh ma cosa sai, stalker di tutti. Cioè in realtà io semplicemente sto attento a quello che mi circonda e a livello tra persone, in queste cose tra persone e pertanto, e me l'hanno fatto notare appunto, e pertanto ho detto, nel momento in cui dovevo scegliere la mia cosa, la mia percorso universitario, ho detto ok forse è sociologia per me. Perché, perché sì, basta, finisce qui la storia. Perché, e questa sia un'altra cosa che voglio dire, non vorrei mai che quando uno, cioè, scusate mi sono impappinato, Quando uno dice, ho scelto questa cosa all'università, no? E uno gli dice, ma ti interessa l'argomento? E tu dici, sì, sì, mi interessa tanto. Ok. Com'è? Non è che mi interessa sociologia universitaria, nel senso, non è che io ho visto gli esami che si fanno all'università e ho detto, oh, mi piacciono questi esami. Nel senso, sì, mi piacciono, ma non è quello che mi ha fatto scegliere sociologia, è la mia propensione attuale verso ciò che mi circonda, verso ciò che mi circonda, la mia, il mio modo di approcciarmi alla realtà che mi ha fatto capire, diciamo così, che probabilmente sociologia potrebbe essere adatta a me. Poi, e quindi ho questa sorta di interesse latente che in teoria poi studiando sociologia viene amplificato, quindi tu hai questa tipo, diciamo, propensione, ecco, vai a propensione e allora dici, ok, cos'è che fa per me? Con la mia propensione ingegneria non sarebbe mai potuta, ad esempio, accadere, e quindi dico, ok, la roba più adatta a me mi sembra sociologia, quindi faccio sociologia. Poi sociologia potrà avere di sicuro degli ambiti che non mi interessano, eh, e voglio che sia chiaro, quando una persona, quando io dico che mi interessa sociologia, non mi interessa tutto di sociologia, perché se mi interessasse tutto, ok, sarei un caso raro, però sarebbe un po' strano, no, cioè, non avrei, non so, non so come dire, però, non sarebbe, diciamo, sarebbe un po' impossibile, ecco, sarebbe un po' impossibile che uno dice, sì, sì, mi interessa tutto, non c'è neanche una cosa che non mi piaccia. Io ho scelto sociologia perché ritengo che sia la cosa che più mi riflette, ok? E quindi questo, spero che si sia capito nel senso del discorso, è un po' difficile da spiegare, anche perché questo tipo di spiegazione non l'ho mai fatta così in dettaglio, quindi potrei essere incasinato probabilmente, spero di no. Ora, un paio di domande e risposte che penso che alcuni si potrebbero fare, o che probabilmente alcuni vi faranno se scegliete sociologia. Pensi di trovare lavoro? Allora, io non lo so, perché in tre anni le cose possono cambiare, ma dei tipo sogni nel cassetto li ho e agirò per realizzarli, ok? Quindi, quando dicono pensi di trovare lavoro, cioè, appunto, non lo so, comunque io ho degli obiettivi che mi sono fissato, che con sociologia potrei, diciamo, avere la strada un po' più spianata per realizzarli. Poi, pensi che ti laureerai alla fine? Allora, immagino di sì, immagino che lo farò, perché l'ambito mi sembra, mi interessi molto, ok? Ma anche qui non sono mai sicuro al 100%, e so che non è mai bene crearsi aspettative e crearle agli altri. Quindi, ora come ora, se una persona mi dice, ma credi che ti laurea... Andiamo con calma, insomma, io ho scelto questo, perché penso che sia ciò che più mi rispecchia, però non sono sicuro al 100%. E poi, pensi che farai qualcosa dopo per specializzarti? Allora, penserei, per ora, di fare qualcosa riguardante criminologia, perché, come ho detto prima, ho questo interesse. Però, preferisco prima vedere in prima persona, studiando effettivamente sociologia all'università, cosa effettivamente potrei fare. Perché se magari studiando mi accorgo che criminologia fatta in un determinato modo all'università, in realtà, non mi ispira, potrei fare qualcos'altro, ok? Ora, vorrei passare in rassegna brevemente la lista degli esami che dovrei fare nel primo anno e descrivere i miei presentimenti per ognuno di essi. Questo sarà molto rapido come cosa e vi dico che chiaramente ho anche letto la descrizione di ogni esame, di ogni esame nella scheda del corso per dire quello che sto dicendo. Ora, il primo esame nella lista è istituzioni di economia politica. Allora, questo in realtà mi sembra tipo un esame normale, e non credo che sarà eccessivamente difficile, penso di avere un'infarinatura generale riguardo l'argomento di economia. Psicologia sociale. Questo mi interessa parecchio. Una cosa che forse non ho detto prima è che un argomento tipo in comune tra psicologia e sociologia, che mi interessa e mi ispira molto, è come le persone reagiscono agli stimoli prodotti dalla società. E questo dovrebbe proprio essere ciò che riguarda, no scusate, questo dovrebbe proprio essere l'ambito di indagine della psicologia sociale. E credo appunto che questo esame riguardi proprio tal argomento vedendo il nome. Quindi questo mi ispira particolarmente. Poi abbiamo sociologia, e questo immagino sia un esame molto ampio. Su sito dicono che ha come filo conduttore il concetto di pluralizzazione della società. Immagino si parlerà di diversi concetti, in chiave non troppo specifica, per effettivamente introdurre all'argomento gli studenti, cioè dargli le basi e i concetti chiave della sociologia. Poi, antropologia culturale. Allora, qui non ho compreso bene, leggendo la descrizione, ciò che questo corso è mirato a dare. In ogni caso, leggendo antropologia culturale, penso che sia anche in questo caso, come un po' per sociologia, un esame introduttivo, anche se magari più specifico, riguarda i concetti dell'antropologia, ovviamente, come dice il nome dell'esame. Poi, istituzioni di diritto pubblico, questo ho visto che riguarda tutto ciò che alle superiori si fa con il nome di cittadinanza e costituzione, quindi dovrebbe bastare questo a farvi capire tutto. Logica delle scienze sociali, è il terzo ultimo esame. Anche questo esame mi ispira particolarmente e si è mirato a fare entrare lo studente nella appunto logica delle scienze sociali, quindi dovrebbe instaurare nello studente quel mindset che è tipico di chi deve studiare la società, trarre conclusioni e, se necessario, trovare i metodi tramite i quali alcuni problemi possono essere risolti. Quindi anche questo mi ispira particolarmente. Scienza politica, anche per questo non sono riuscito a comprendere appieno e nel dettaglio gli obiettivi, più che altro perché nella scheda dell'esame è scritto veramente poco. Comunque immagino che dia un insieme di conoscenze prettamente politiche, come ovviamente fa pensare il titolo. Infine abbiamo storia contemporanea che è l'esame che più mi spaventa perché non mi è mai piaciuto dover imparare a memoria tutta una serie di fatti per poi saperli esporre, e questa cosa è chiamata storia. Ora alcuni potrebbero dire che storia non è imparare a memoria, io non lo so, non so ancora mai, non sono ancora mai stato convinto a riguardo. Cioè se qualcuno nei commenti vuole dirmi perché storia non è solo imparare a memoria, sarei felice di fare una discussione, perché veramente no. In ogni caso comunque questo esame riguarda la storia dalla prima guerra mondiale in poi e basta, non credo ci sia altro da dire. Comunque il fatto che sia dalla prima guerra mondiale in poi già mi tranquillizza un po' perché sono robe più recenti, quindi dovrei essere più facilmente in grado di acquisire tutti quegli insiemi di concetti. Ok ragazzi, questo è quanto, se tutto va secondo i piani dovrei iniziare l'università effettivamente perché finora non l'ho ancora iniziato, questo è una sorta di podcast in cui spiego le mie aspettative, anche se non sono aspettative perché le aspettative possono essere deluse, i miei presentimenti, ecco, perché inizierò l'università effettivamente verso fine settembre. Ora vi aggiornerò se lo ritengo necessario con un ulteriore video prima dell'effettivo inizio, ma non credo sarà necessario. E con questo è tutto. Ciao a tutti!